Paura Giulianova dove una commerciante è stata rapinata da due uomini che a bordo di uno scuterone con caschi integrali e armati di pistola l'hanno costretta a consegnare la borsa contenente gli incassi del fine settimana. Il fatto è avvenuto lunedì nei pressi del suo garage in via Gramsci dove la donna stava prendendo l'automobile per andare in banca a versare il denaro. Il bottino secondo le prime informazioni ammonterebbe a circa 20.000 euro. La vittima è la titolare del bar Lazio e si stava recando in banca a versare proprio l'incasso del locale. La donna si è trovata di fronte ai due rapinatori armati e terrorizzata ha consegnato la borsa ai due che sono scappati in sella allo scuterone. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Giulianova che stanno visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per cercare di individuare il numero di targa dello scooter. Probabile che la donna fosse stata attenzionata da tempo dai malviventi che hanno agito a colpo sicuro. La stessa barista lo scorso febbraio era stata vittima di un furto in casa e questo brutto episodio avvenuto a Giulianova Alta fa tornare a scattare l'allarme sicurezza.